Ma le bibite gassate, ovviamente ho dovuto coprire la marca, ma presto capirete di cosa stiamo parlando perché sono tra le bibite più vendute al mondo. Ma fanno bene? Fanno male? Beh, questo discorso del fanno bene fanno male è soggettivo? Oppure non neanche riesco più a aprirle, pensa un po'. Bibita gassata. Ecco qua, guardate quanto gas. Avete già capito, immagino, di quale bibita stiamo parlando. È una bibita completamente analcolica. Allora, bevuta una volta, cosa che non verrò perché è un tipo di bevanda che ormai ho escluso dalla mia vita da anni e non voglio tornarci dentro. Tornarci dentro come una dipendenza, poi vedremo. È un tipo di bevanda che se bevuta una volta, una volta ogni tanto, magari lo accompagniamo a un aperitivo, oppure quando siamo piccoli la colleghiamo alle feste. Festa di compleanno, pizzette, patatine e bibite gassate. Di tutti i tipi, tutti i colori. Poi pian piano la pretendi il sabato a cena, magari quando in famiglia mangiate la pizza. Poi pian piano la richiedi tutti i giorni. Fai storie, capricci e i tuoi genitori, magari anche per non sentirti, te la cominciano a dare spesso. E allora il problema è che la inizi a bere da quando sei piccolo, te la porti avanti con cadenza sempre maggiore, quanto sei grande. Poi che succede? Succede che iniziano l'età dell'adolescenza, inizialmente continui a bere bibite gassate perché sono alcoliche, quindi quando esci il pomeriggio con gli amici, i primi cocktail, le prime bevande alcoliche, riguardano le bibite gassate più l'alcol. E da grande, magari per un aperitivo, accompagnano un qualcosa, la bibite gassata. Siamo perfetti, quindi anche se la bevi una volta non ti succede assolutamente nulla su un organismo sano. Però ricordiamo che ci sono due grandi problemi in queste bibite gassate. Il primo è la nitrite carbonica. Quindi quella schiumina che facevamo all'inizio del video, quella è la nitrite carbonica. E riflettete con me la nitrite carbonica. Noi quando respiriamo abbiamo due fasi. L'inspirazione, dove l'organismo o i polmoni cercano l'ossigeno. E l'espirazione, lo scarto attraverso i polmoni, che avviene? Che cosa buttiamo fuori? Anitrite carbonica. E noi invece qui stiamo aggiungendo anitrite carbonica per rendere gasata la bevanda. E cosa succede quando io inserisco uno scarto del nostro organismo? Cioè qualcosa che potenzialmente è nociva, altrimenti non la buttavamo via. Succede che ci creano problemi. Allora, se andiamo ad analizzare il pH di queste bibite gassate, grazie alla presenza di anitrite carbonica, vira da un pH alcalino, quello dell'acqua potabile, a un pH tendenzialmente all'acido, quello di una bibita gassata. Quando entra nel nostro stomaco, può creare problematiche inizialmente a livello dello stomaco, appunto, reflusso, acidità, perché va a stimolare, quindi aumenta l'acidità dell'acido cloridrico. Poi problematiche ai denti, allo smalto e vari problemi. L'anitrite carbonica non fa bene, assolutamente. Guai a chi dice al contrario, che l'anitrite carbonica fa bene alla salute. Secondo ordine di problemi è lo zucchero. Questo è zucchero, cioè qui è acqua, dove hanno aggiunto anitrite carbonica, poi aggiungono una buona quota di zucchero, tra gli ingredienti e i primi. Il primo ingrediente è l'acqua, il secondo è lo zucchero, se ci fate caso, e poi l'anitrite carbonica. E poi ci sono gli aromi, di cui alcuni non svelano la formula, aromi naturali, alcuni hanno la caffeina, altri non ce l'hanno. Ci sono sostanze coloranti, quindi coloranti naturali o artificiali, che sono un po' più a buon mercato, e conservanti, insomma, entriamo in contatto con tante sostanze, che potenzialmente tutte insieme, a lungo termine, possono essere sicuramente nocive per la nostra salute. Zucchero è in forma liquida, è diluito in acqua, e lo zucchero in forma liquida diluito in acqua aumenta la biodisponibilità, viene assorbito in maniera eccellente dal nostro organismo, che poi ne è ghiotto. Quindi da una parte viviamo una oscillazione troppo veloce della glicemia, che ci porta ad un aumento dell'insulina, e quando l'insulina è troppo alta andiamo verso il grasso, verso la produzione di grasso viscerale, l'adipocita, se lo succhia, quindi bello il grasso sotto l'ombelico, oppure peggiora la cellulite, insomma, quello, il grasso. Si crea dipendenza, perché si creano delle scariche dopaminerciche, creano problemi alla flora batterica intestinale, quindi ci portano verso una disbiosi, con problemi nel tempo di adia nella pancia, stipsi, scariche, eccetera. E poi per non parlare veramente dei conservanti, coloranti, però ci piacciono perché le colleghiamo a livello emotivo, consideriamo sempre la salute, come un equilibrio tra biochimica, strutture e psiche, e qui a livello emotivo queste bevande gassate le colleghiamo alle prime feste, alle prime uscite con gli amici di quando eravamo piccoli. E' sempre meglio l'acqua naturale. Teniamoci alla larga da tutto questo, non fa bene, io veramente non le bevo più. E tu? Fammi sapere se ti piacciono, se hai capito che fanno male, poi cerca su Google, bimbi di te gassate, esce fuori il mondo. E però continuiamo a berle, e sono tra i prodotti più venduti, quelli alimentari. E' un prodotto necessario? Non è necessario. Va bene, vi ricordo di mettere un bel mi piace, condividere il video, scrivetevi un commento se vi piacciono, mi piacciono se ancora le bevete, e condividete il video con i vostri amici. Ciao a tutti, grazie.